Cari ascoltatori di Radio Pugiloner, benvenuti ad un nuovo episodio di approfondimento dedicato oggi ad uno dei più recenti e provocatori editoriali di Marco Travaglio. L'editoriale si intitola Populismo o Morte, un titolo che non passa certo inosservato e che sembra richiamare non solo un dilemma politico, ma una vera e propria scelta esistenziale per il nostro Paese. Travaglio, con il suo stile tagliente e diretto, ci offre uno spaccato del mondo politico italiano e internazionale, mettendo in luce le ipocrisie e i paradossi che attraversano il dibattito politico odierno. Vediamo insieme i punti salienti. Vi invito naturalmente ad andare a leggere l'editoriale di Marco Travaglio, perché ne vale davvero la pena, sul sito del Fatto Quotidiano Online. Travaglio parte da un'osservazione acuta ponendo una domanda retorica che racchiude una contraddizione evidente. Perché il governo italiano accoglie con amicizia e dialogo sia Xi Jinping in Cina che Trump negli Stati Uniti quando gli stessi legami stretti con questi leader da figure come Conte o Salvini vengono considerati populisti o addirittura fascisti. Questo doppio standard, osserva Travaglio, rispecchia la memoria corta e la flessibilità delle alleanze nella politica dove oggi conta più adattarsi al padrone del momento che mantenere una linea coerente. L'allusione di Travaglio è chiara. Una politica così camaleontica rivela un profondo vuoto ideologico e, in un certo senso, legittima quel populismo che spesso viene demonizzato. Travaglio introduce qui un concetto forte. La riscoperta di quel sano populismo che, da vent'anni, ha evitato che il tasso di astensione elettorale toccasse il 100%. Perché? Perché questa forma di populismo, che in fondo Travaglio identifica con una voce controcorrente, radicata nel malcontento di un elettorato sempre più disilluso, è stata la sola a dare ancora un po' di ossigeno alla democrazia, rispondendo ad un pubblico che chiede risposte concrete e non solo slogan. Travaglio osserva che il populismo, quando è sincero e rappresenta veramente le istanze del popolo contro l'elite, è una forza democratica sana e vitale, tanto da essere diventato l'unico argine ad una astensione totale. In un'altra parte del suo editoriale, Travaglio insiste su un cambiamento radicale nell'orientamento politico dei cittadini, che ormai non si riconoscono più nelle categorie di destra o sinistra. Al contrario, gli elettori, secondo Travaglio, si dividono su un nuovo asse, quello tra elite e popolo, tra vecchio e nuovo. Questa frattura, come nota Travaglio, supera di gran lunga la dicotomia classica della politica del Novecento e a suo avviso rende obsoleti anche i partiti tradizionali. Come esempio cita le parole di Sabrina Ferilli, che con grande semplicità ha messo in luce il pragmatismo dell'elettorato americano, più interessato alle politiche fiscali di Trump che alle sue gaffe o alle sue uscite provocatorie. Un pragmatismo che per Travaglio rappresenta una lezione che anche la politica italiana dovrebbe imparare. E a proposito di elezioni, Travaglio riflette su uno dei principali bersagli del populismo italiano, il Movimento 5 Stelle, bollato per anni come il partito del Waffa. Cosa c'era di male, si chiede Marco Travaglio nello sfogare il proprio disprezzo contro i tanti parlamentari con precedenti penali. E non sono forse milioni di elettori del Movimento 5 Stelle una dimostrazione del fatto che il populismo non è solo un male da evitare, ma una risposta legittima ad una classe politica corrotta e autoreferenziale. Qui Travaglio difende il populismo come una forma di rivolta, non una fine della politica, ma una rinascita della politica. Secondo Travaglio, la sinistra, incarnata in questo contesto dalla figura di Elie Schlein, ha purtroppo adottato un riflesso pavloviano, correndo a braccia aperte verso Mario Draghi e l'elite tecnocaratica. Una scelta che, secondo l'editorialista del Fatto Quotidiano, condanna la sinistra a rimanere prigioniera del politicamente corretto, lontana dai bisogni e dalle esigenze reali della popolazione. La proposta di Travaglio per il Movimento 5 Stelle è diametralmente opposta. Meno compromessi, meno campo largo e più campo aperto, uno spazio per ritornare ai valori che hanno reso il Movimento 5 Stelle, un movimento dirompente. Allora mi viene da pensare che Travaglio sia d'accordo con quello che dice Grillo, più che con quello che dice Conte, da quanto dice in questo editoriale. Ma forse mi sbaglio, forse ha cambiato linea, perché fino a pochi giorni fa aveva difeso la linea di Conte, che invece va proprio verso il campo largo e non quei valori di cui parla in questo editoriale Marco Travaglio. E ne sono molto contento che lui parli così in questo momento. Un Movimento 5 Stelle che è stato dirompente, perché è concentrato su temi come l'onestà, l'equità sociale, la tutela dell'ambiente e il sostegno ai lavoratori precari. Ricordiamo il reddito di cittadinanza. Non un ritorno nostalgico alle origini, secondo Travaglio, ma una rifocalizzazione su quello che realmente interessa agli italiani. In un passaggio molto interessante, Travaglio elenca una serie di iniziative che a suo avviso hanno caratterizzato i governi Conte e rappresentano il vero populismo positivo. Leggi in favore di onesti e poveri. Sostegno ai lavoratori precari. Difesa delle imprese virtuose. Tutela dell'ambiente. E rapporti equilibrati con le grandi potenze internazionali, dagli Stati Uniti alla Cina e alla Russia. Travaglio sostiene che queste iniziative rappresentino un modello di populismo sano, capace di stare lontano dai modelli di potere imposti dall'alto e di rispondere invece ai bisogni del Paese. In chiusura, Travaglio ci invita a riflettere su un dato di fatto. Mentre i media tradizionali continuano a scagliarsi contro i populisti, questi ultimi si confermano spesso i soli a rappresentare i veri interessi del popolo. Travaglio non predica un populismo disorganizzato e rabbioso, ma un populismo attento, orientato al bene comune, capace di riconoscere l'importanza delle grandi questioni sociali e internazionali. Questo tipo di populismo, a suo parere, non è solo auspicabile, ma necessario in un sistema che altrimenti rischia di alienare i cittadini, lasciandoli in balia di una politica sterile e inconcludente. In definitiva, il messaggio di Travaglio è chiaro. Il populismo, sebbene indirizzato, può rappresentare un baluardo di democrazia in tempi in cui l'elite sembra sempre più scollegata dal popolo. Un populismo che non teme di prendere posizione, di rispondere ai bisogni reali della gente e di portare avanti un modello di politica trasparente e responsabile. Per Travaglio questa è l'alternativa. Populismo o morte. E con queste riflessioni concludiamo l'approfondimento di oggi su Radio Puginon Air di questo editoriale di Marco Travaglio del 10 novembre 2024. Come sempre, vi ringraziamo davvero con tutto il cuore per il vostro ascolto. Vi invitiamo a commentare sotto il nostro episodio, dunque dirci la vostra su quanto abbiamo approfondito. Vi invitiamo a seguire i nostri prossimi episodi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio podcast Radio Puginon Air ovunque mi stiate ascoltando e al mio canale YouTube Marco Pugini. Continueremo ad esplorare le notizie, gli argomenti più dibattuti del nostro tempo e i prossimi editoriali sempre molto interessanti di Marco Travaglio. Restate con noi al prossimo episodio di Radio Puginon Air.